Il sistema AFIS è un sistema che ci consente un monitoraggio costante del fenomeno dell'immigrazione. È un sistema di fotosegnalamento che ci consente l'acquisizione delle impronte digitali. Qui a Potenza è attivo dal 2000, sono state identificate circa 5.000 persone, 4.800 persone. Si è potuto anche giungere all'identificazione di clandestini, di irregolari, e il numero di circa 1.600 in questi nove anni. L'AFIS è solo uno degli interventi del PON, il Programma Operativo Nazionale Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia 2000-2006. Nato per colmare il divario tra le regioni della comunità europea e quelli Obiettivo 1, il programma è costato oltre un milione di euro. Tra i traguardi raggiunti, la formazione degli operatori delle forze dell'ordine, l'attivazione di interventi a favore della legalità, l'acquisizione di tecnologie avanzate. Tra queste è la nuova rete in ponte radio digitale, che ha interconnesso tutti gli uffici della Polizia di Stato, progetti di videosorveglianza anche a Potenza e Matera, 50 le telecamere installate nel capoluogo di regione, 20 lettori ottici per visualizzare da vicino le targhe delle autovetture. Tra le misure è anche un gruppo operativo di Interforze. Questo gruppo operativo Interforze, preseduto da un viceprefetto della Prefettura di Potenza, che ci consente di monitorare tutte le opere relative ai grandi appalti, in particolare per la Salerno-Reggio Calabria. È un gruppo che si occupa prevalentemente della prevenzione, nella infiltrazione eventuale di soggetti mafiosi all'interno dei grandi appalti e che ha un'importanza fondamentale proprio per la realizzazione di opere, di grandi opere, senza gli interessi della criminalità organizzata. Per contrastare le eco-mafie, il PON ha predisposto il progetto Sistema Informatico per la Tutela Ambientale, complice del successo del Programma Operativo Nazionale, la cooperazione. Questa grande sinergia tra le varie istituzioni, tra i vari partner, che sono anche associazioni di impresa, associazioni di volontariato, per raggiungere quel concetto di sicurezza partecipata.